ciao ragazzi iniziamo con un po di bigiotteria cinese allora per natale ho preso questo quanto è bello poi questo noel che vuol dire natale in francese natale in francese poi ho preso questo la perla con il regalino e poi ho preso la slitta e questa è la parte di natale poi ho preso questi guardate quanto sono belli da verde diventano blu molto belli e costa 6,95 sempre bigiotteria cinese poi sempre bigiotteria cinese guardate guardate come tutto sfumato questo e sono 8,90 questi che sono uguali ai primi che vi ho fatto vedere però cambiano i colori qua si vede molto di più la sfumatura sono sempre 6,95 e con questo è tutto per quanto riguarda la bigiotteria cinese ci vediamo alla prossima ciao a tutti